Per quanto riguarda il risultato che ti rende meno probabilmente di poter rotare nella prossima settimana? Sì, è normale che pensi sul risultato che hai. È difficile, dobbiamo pensare sul gioco in cui dobbiamo giocare. Abbiamo deciso di questo. Tutti agreeano con la nostra decisione. Non è diverso. Dobbiamo giocare ogni gioco con la migliore squadra che crediamo sia la migliore squadra. Crediamo in ogni gioco, crediamo in tutti. Crediamo che ogni gioco ha giocato. In Milano con Skip e Sar, chi crede in loro? Noi crediamo in loro. E hanno giocato un grande gioco. Questo è l'unico cosa. Gli giochi in FA Cup, contro Sheffield, contro Preston o contro Portman. Niente deve cambiare. È solo l'approccio. Hai chiesto di parlare di Ivan Perisic. Ovviamente, ha avuto una lunga sezione con il mondo. Sì, potrebbe essere. Ma per un gioco come Perisic, questo non è un problema. Ogni anno gioca più di 60 gioco. Questa settimana sarà la stessa. Questa è un gioco. Inizia un gioco. E' 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 un gioco. è massivo in questo momento, dopo il gioco che abbiamo giocato, ma vuole rispettare la decisione del medico departmental, perché quando hai un problema healthy, non siamo un dottore, e devi rispettare il dottore. Quando i giocatori sono fit in un bene, devi rispettare la decisione del medico departmental, altrimenti devi rispettare la salute dei giocatori e non devi farlo, devi rispettare il medico departmental. Il feedback che abbiamo ricevuto è che sei benvenuto tra le squadre, ma hai detto che hai dato un'intera faccia per loro, potete elaborare un po' di più su questo, ero molto angri e come hanno fatto questa reazione? Hociamato, ma stappogliato, ovviamente quando ti stappogliato, ti stai建zionando qualcosa di diverso e è normale che tutti avviamo grattura dopo il gioco, perché stai a pensare a pensare tutte perché questo fatto, che colui in modo che hai una sensazione un'intera faccia, ce non è normale per me, perché normalmente c'è Antonio in fronte di me e magari è il momento di mostrare una fase differente, se ti senti che questo è bene. Finalmente, una questione su Oliver Skip. Jose Mourinho, il precedente manager, ha suggerito che un giorno fosse il Tottenham. Vedete queste qualità in questo gioco? Potrebbe essere il leader di Tottenham, perché è un ragazzo e può mostrare il modo di essere un leader, la forma che tutti gli hanno dovuto seguire. Quindi potrebbe essere in futuro, ma deve migliorare come un uomo, perché è un giocatore e anche in la dressing room. Potrebbe essere in modo di essere in modo di parlare con tutti. Quindi bisogna di tempo, perché è un giocatore, è un giocatore, è un giocatore e ha il tempo di raffreddare il rispetto di tutti. Il nome di Oliver è un caratteristico che non è stato molto sguardo, ha iniziato a mostrare la sua voce in la dressing room? Sì, se ti permette di parlare, è intelligente, è intelligente, è intelligente, è un uomo è un uomo importante, per mostrare la forma in cui devi trainare, giocare e sentire quello che ti sentirei nel fútbol e come il fútbol è nel tuo DNA. E tu potresti essere un leader, bisogna di tempo. Io ero sguardo quando ero giovane, ero diverso quando ho finito la mia carriera. Quindi, puoi crescere come un uomo. Hi Cristi. Probabilmente c'è un giocatore con AC Milan che si avvicinano la domanda. C'è un giocatore che si tratta da qualche tempo? Soprattutto dopo la scena dei fútbol del FA, ha un giocatore che si avvicinano così rapidamente. Non pensiamo di AC Milan in modo che noi prendiamo il team per domanda. Ma non pensiamo di AC Milan, sicuramente. Quale reazione vuoi vedere da tutti i giocatori, specialmente dopo il suo disapointe? La stessa reazione che abbiamo avuto nel passato. La stessa, non diversa. Grazie. Grazie. Can I ask you, you mentioned about the hangar from the team, everybody's talking about trophies, but you need to build a hangar mindset. Can I ask you, if it's the most challenging thing you're facing now at the club, is it more of finding a way to get the hangar out of the players consistently? Yeah, this is the difficult thing. You have to find this type of hangar inside of you. Inside of the dressing room, inside of the team, inside of the staff, inside of the club. Because everyone participates to create this atmosphere, to feel how important it is to win games, to win every game. And how you feel when you don't win a game is important to create this atmosphere for the next game. But what's the, what's the, have you identified what the cost is that you can, a team like Tottenham can win against Chelsea convincingly, and then go to Sheffield and lose? Have you been able to find where the up and down is constantly from? It came from a long time, it's not this season. Every season it seems sometimes better, sometimes lower, but every season it seems similar. So it's for real that Tottenham is on the fifth round in FA Cup, is out. We have to change this. We want to change this. And when we speak from each other, we speak about this. If we want, in the future, we can have this. To follow on, Christian, if I may. Are you saying to us that this is a problem that is part of Tottenham that is inherent in the club? I don't know completely this. I know what happened now, and I know what I want to change, and the way we want to change. So it's live experience and learn from the experience. We had the experience last season. We have this experience, and we have to learn from that. And this is the starting point. We will see what happens in the future. When you talk about mentality, give us an example of why you knew the mentality was not right. The mentality is the reality we showed in the last game. This is the mentality. The approach was not good. It's not the mentality we need. We have to change from this starting point to the future. Because what happened in the past is done. It's finished. You have to start from now to the future. I'm not here to analyse what happened in the last ten years. I'm here to analyse what happened from now and in the future. Every game is different, but the approach has to be the same against every team and every type of competition. You've been here for over a year now. Have you not been able to change some of this? Do you feel like you've made it? We need time to change this. Because you don't know ever how long you need to change this type of situation. Because it's not easy. It's not easy. It's about club feeling, manager feeling, job every day. It's a big thing. Maybe I'm not the right person to explain what is the vision, the trajectory. We have a manager, we have a sporting director, we have a chairman. I'm here to explain what I do now. Do you mind giving us a little update on Antonio's state of mind? Is he much healthier? Have you seen him? Does he look better? Has he been able to address the players since Wednesday? I've seen him from a video call and he feels better. He feels like in charge. He feels ready to come back. He cannot wait the moment to come back. So his frustration to not be here is huge. So I feel he feels better. Did he speak to the players this week? Every game, before the game, he speaks with the player. On the video. Did you say it's not about a selection? Do you accept that there's a... Maybe it's connected that when the players see that Harry Kane and Crist Romero are not playing in a game, maybe they think this competition is somehow less important to you, to the manager? If someone thinks this, I think he made a mistake. If some players thought that, it was a big mistake. Because it was not the reason we didn't use Harry. Everyone agreed with us and no one player spoke before. If some players thought that, maybe they had to speak before. Or if someone in the club thought that before the match, you have to speak before the match, not after. After it's too late. It's too late for me, it's too late for the player that plays, it's too late for everyone. So I don't think so. Did Harry say that he was happy not to play? All the players are not happy when they don't play. But we have to respect the schedule, we have to respect also the season we are playing, that is completely different from all the seasons. And we want that Harry Kane, like I said, play every game. But we have also the responsibility to decide which game he needs to play. I have never heard this. Because if someone speaks with our staff and Antonio as well about this, I think this person will have a problem with Antonio and with us. Because it's not our vision. We want to win every game, every trophy, every year. That's it. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Grazie.